I film che hanno per tema il giornalismo sono divisi in due categorie. Nella prima i protagonisti sono degli eroici giornalisti che combattono per difendere la libertà, la civiltà e l'onestà. L'esempio più classico è Tutti gli uomini del presidente, un ottimo film diretto da Alan J. Pakula che rivelava il Watergate. Il secondo tipo di film è quello che invece vede i giornalisti come dei personaggi cinici, disincantati e spesso corrotti. L'esempio massimo è forse Sweet Smell of Success, ovvero Piombo Rovente, di Alexander McKendrick, ma Billy Wilder ha dedicato dei capolavori a questo genere, l'asso nella manica, ma anche prima pagina. Insomma, sono due modi di concepire la realtà del giornalismo in maniera completamente diversa. Dobbiamo dire che i film migliori appartengono alla seconda categoria, proprio perché invece di avere un approccio ideologico o un messaggio cercano di raccontare l'anima dei personaggi. Steven Spielberg, o The Post, The Post sta per Washington Post, fa un film che appartiene alla prima categoria e al nostro modo di vedere, insieme a tutti gli uomini del presidente, si rivela il più bello appunto di questo genere. Perché certamente in questo film i giornalisti sono degli eroici combattenti per la libertà, anche se la vera protagonista del film è l'editrice del Post, Katrin Graham, interpretata in maniera superba, mirabile, da Meryl Streep. Così come è superbo e mirabile Tom Hanks che interpreta il direttore, all'epoca, del Washington Post, Ben Bradley. La storia segue la vicenda dei cosiddetti Pentagon Papers. Un analista militare in Vietnam si accorge che lo Stato, il Dipartimento di Stato, sin dai tempi di Truman, quindi per numerose amministrazioni, numerosi presidenti, ha coperto la realtà rispetto alle guerre in corso, prima la Corea, poi il Vietnam, e decide di far filtrare questi documenti con un intento nobile. Non è possibile che il Dipartimento di Stato, che l'amministrazione, sia cosciente del fatto, per esempio, che la guerra del Vietnam non si possa vincere, e nonostante ciò continui ad andare avanti, o continui quindi a mandare a morire i soldati americani e ovviamente anche i civili e i soldati del Vietnam. Questo scandalo è relativo soprattutto all'amministrazione Johnson e Kennedy, il cattivo, tra virgolette, e Bob McNamara, che era il ministro della difesa dell'epoca, ma viene gestita in seguito, viene gestita all'inizio degli anni 70 dall'amministrazione Nixon, il quale tuttavia cerca di coprire, di insabbiare, cerca di dire che sono segreti di Stato che possano danneggiare gli Stati Uniti e la sicurezza degli Stati Uniti. Si apre un conflitto che arriva fino alla Corte Suprema. Il film è problematico perché da un lato cerca di capire quanto è importante rivelare sempre e comunque la verità, da un altro lato, non in maniera manichea, si pone il problema, ma è vero e giusto delle volte mettere a ripentaio la sicurezza? Cosa rende questo film diverso e migliore da tante altre pellicole che parlano appunto della prima categoria dei film sul giornalismo, quelli che li dipinge come degli eroi? Il fatto che Spielberg innanzitutto non è mai manicheo e cerca di raccontare la vulnerabilità, le ambiguità, le difficoltà e anche le pochezze di questi personaggi che sono certamente dal lato che lui predilige della storia, sono dal lato che lui ritiene giusto. Lui appoggia completamente la necessità di rivelare anche delle verità scomode, anche delle verità tragiche. E' un secondo punto che lo rende diverso da film per esempio mediocrissimi come Spotlight, che venne addirittura premiato da un Oscar, lo cito perché la sceneggiatura originale poi revisionata è dello stesso autore che ha scritto Spotlight. Ecco la differenza che Spielberg cerca di capire i personaggi e li dirige sempre con un'idea puramente cinematografica, le immagini, i gesti, le battute non sono mai fini a se stesso o al servizio del messaggio, cercano di capire l'intimità di ogni singolo personaggio. Sia Catherine Graham che Ben Bradley non sono degli eroi, hanno le loro ambiguità ed è meraviglioso come ad esempio Mary Streep riesca a raccontare da un lato l'insicurezza di questa donna che era anche ferita nella sua intimità, il marito Phil Graham aveva commesso suicidio pochi anni prima, ma nello stesso tempo trova la forza, trova il coraggio di scommettere tutto, rischiando di andare in galera, rischiando di far cadere e fallire il giornale pur di rivelare qualcosa che per lei era nobile. e lo fa andando contro un suo amico personale, McNamara, segretario della difesa liberal, anche se detestato da tutta la sinistra americana. Infine c'è qualcosa che riverbera in maniera chiara sulla condizione attuale, sull'attuale amministrazione, ma anche in questo Spielberg si chiede la grande, perché tutta la riflessione che ci invita a fare, anzi ci costringe a fare sulle fake news, sulla necessità di non farsi insabbiare, di rivelare la verità, non è mai fatta con mano pesante. C'è qualche enfasi nel finale, ma nello stesso tempo lui riesce a dire che la passione e la necessità di cercare la verità sia qualcosa che supera qualunque costrizione, sia ideologica, sia politica. Un saluto da Central Per Quest.